L'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Santa Marinella vicino Roma ha inaugurato una nuova struttura per la riabilitazione di chi ha subito traumi neurologici con sistemi robotici progettati ad hoc. Secondo quella che è la missione dell'ospedale, essere all'avanguardia nella cura come nella ricerca, pur facendo i conti con la continua riduzione dei fondi a quest'ultima. Qual è l'obiettivo fondamentale? Non pretendere di fare tutto. La strada su cui noi sostanzialmente come Bambin Gesù siamo orientati è quella di, attraverso iniziative come quella di oggi ma come altre, generare centri che per capacità, per volume di casistica, per capacità di conoscenza e per cultura siano in grado di portare avanti la ricerca non come un mondo separato dalla clinica ma un qualcosa di integrato. Qui ci sono molti macchinari che sono stati proprio progettati e pensati per voi. Avete un circolo virtuoso con l'università? Sì, diciamo che questa nostra attività si avvale della collaborazione del professor Paolo Cappa che è l'ordinario di meccanica della Sapienza di Roma che sostanzialmente ha scelto il nostro laboratorio come laboratorio dell'università. Quindi c'è uno scambio quotidiano tra clinici e ingegneri. Ma di quante persone può prendersi cura questa struttura? Come numerosità io direi noi abbiamo circa 400 pazienti all'anno, circa 8000 dei hospital, ovviamente non sono tutti di trattamento riabilitativo ma una parte significativa sì.